Ciao amiche e amici di Tre Gran Minuti, ben trovati, nuovo appuntamento dedicato al mercato con la proiezione lista Champions perché se la lista Serie A consente maggior margini di manovrabilità la lista Champions soprattutto nel periodo economico nel quale si trova il mondo del calcio e non solo impone scelte oculate, pertanto nel momento in cui vi parlo la Juventus si trova con un esubero relativamente alla lista Champions perché diamo per assodato che Dira sia prossimo alla risoluzione contrattuale, tra lunedì e martedì dovrebbe arrivare l'ufficialità della risoluzione tra il tedesco e la Juventus ma non basterebbe per poter pensare che la Juventus possa inserire con l'uscita di Dira Ussema Uar questo perché ragionando a fronte di tante domande che ho ricevuto in questi giorni, in queste ore bisogna tenere in considerazione bene quella che è appunto la situazione lista nel momento appunto in cui vi parlo ci sarebbe un esubero da identificare in Daniele Rugani considerato De Litt inserito in lista o viceversa De Litt perché è infortunato fuori e Rugani inserito quindi perché la Juventus possa inserire anche Ussema Uar sarebbe fondamentale un'ulteriore accessione prendiamo ad esempio l'uscita di Douglas Costa che è sul taccuino delle cessioni da parte della dirigenza libererebbe un posto, a quel punto la Juventus potrebbe andare ad inserire Ussema Uar o eventualmente il sogno Paul Pogba che però sarebbe un colpo delle ultime ore di mercato perché il Messi United non ci sente, vuole tenere duro, però Pogba non rinnova e qualora non volessero perdere una seconda volta a parametro zero potrebbe essere un'operazione da ultime ore di mercato a quel punto la Juventus si troverebbe con una situazione di un solo esubero che forse potrebbe sopportare, però c'è anche la situazione di Desciglio che va tenuta monitorata perché Desciglio è un altro giocatore che è considerato in uscita libererebbe uno spazio che potrebbe essere occupato dal giovane Frabotta non è però così scontato perché c'è anche la posizione di Federico Berandeschi che potrebbe essere inserito nella posizione di esterno sinistro anche di difesa soprattutto se la Juventus volesse fare un'ulteriore operazione pertanto o la Juventus si accontenta dell'inserimento di un centrocampista e non farà più nulla altrimenti siccome nelle ultime ore si è scaldata la posizione di Federico Chiesa è rientrato in orbita Juve, ve lo confermo anche dalle informazioni ricevute in questa settimana dalla Toscana Juventus segue ed è interessata al giocatore, non alle cifre che chiede la Fiorentina ma ad una cifra decisamente più bassa, io credo intorno ai 35-40 milioni di euro che sono comunque tanti, non un'operazione a titolo definitivo ma un'operazione con un prezito oneroso ed eventualmente un obbligo di riscatto per poter arrivare a quella soluzione i casi sarebbero due o Bernardeschi accetta di, accetta, o verrà considerato come giocatore di difesa diversamente Bernardeschi assistito da Milo Raiola potrebbe rientrare in un giro di cessioni perché altrimenti sarebbe lui un ulteriore elemento escluso nel momento in cui anche De Litt avrà recuperato e quindi la Juventus si troverà di fronte a dover fare delle scelte e a dover escludere oltre a Daniele Rugani anche un secondo giocatore importante che avrebbe un forte impatto a bilancio e quindi situazione questa da tenere in considerazione e monitorata o la Juventus farà due uscite e inserirà il solo centrocampista diversamente per poter pensare ad un secondo centrocampista o al nome Caldo che si sta facendo in queste ore di chiesa credo che sarebbe necessaria almeno una terza uscita e il nome di Bernardeschi in quest'ottica torna ad essere uno di quelli da tenere in considerazione spero di avervi chiarito un pochino quella che è la posizione della situazione in questo momento del mercato della Juve che, ripeto, è vincolata a quel discorso esce uno e entra uno però Chedira direi Chedira è escluso nel senso che Chedira è già fuori dai giochi e nonostante lui c'è già un esubero per la lista Champions pertanto per poter pensare ad un giocatore importante di impatto è fondamentale che la Juve faccia almeno, oltre a Chedira, un'altra uscita importante io ho concluso, vi invito a mettere like al video iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e vi do appuntamento ai prossimi 3 minuti ciao ciao iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao